Sto toccando il popolo, o popolo, si no, no, l'ho chiamato, il cliché, c'è, non lo da centro-sinistra, l'antinuclearista, se lo da centro-destra, l'antinuclearista, ma chi è l'annatica? Chi è l'annatica? Cioè, non la stiamo impagnionare da questa scategoria, non la stiamo impagnionare da questa scategoria, scusate, se no, se non delle cose, non le 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 stiamo impagnionare, ma da partito di indipendentista, e chi ha il riferimento ha il partito di italiano, però io no, che fa una cosa, chi riguarda il popolo, lo sardo, impare, 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 allora chiediamo il video su questa cosa, però sappiamo via, questa generazione è l'ambulismo di intelligenza, l'ufficiente è proidere chi batta, il spazio si non ve lo riguarda, tutto, indipendentemente da il suo valore, chi urgete, amico o nemico dei capellacci, ma chi se ne frega? E' uno valore tanto determinante, in cui si possono s'impedire, è anche uno comitato, cioè, a vero, è uno valore tanto importante, i capellacci si è corso, si è gai, ma chi se ne frega? Cioè, se i capellacci botta sia sull'epenegno, benenni, benenni così e capellacci, ma chiunque, ma chiunque?